ultima parte di trasmissione la dedichiamo come sempre agli appuntamenti formativi abbiamo fatto accenno prima l'importanza di avere una solida conoscenza di base prima di intervenire poi sui mercati so che c'è stato un recente appuntamento con la doppia firma Nicola Para e Riccardo Falcolini ne vogliamo parlare soprattutto poi anche dei prossimi appuntamenti Nicola prima te poi naturalmente parola anche a Riccardo allora stavo guardando il calendario per vedere che il giovedì 2 marzo abbiamo un webinar con Riccardo di solito lo facciamo sempre insieme è l'aggiornamento del giovedì quindi direi che il prossimo se non mi sono sbagliato è il 2 marzo e poi penso che insomma ci sono le varie fiere di investimenti e trading italiane alle quali di solito insomma Unicredit partecipa molto spesso ma qui lascio la parola a Riccardo Riccardo allora noi ci siamo segnati in agenda 2 marzo dovete partecipare però mi raccomando esatto non solo segnarlo ma anche partecipare attivamente poi so che c'è la data clou sempre del 14 di febbraio assolutamente per i certificate lovers la ribattezzata e poi quali altri appuntamenti prevedi? ce ne sono tantissimi diciamo in ordine di data uno questo pomeriggio con Renato De Carolis uno domani con Stefano Fanton il 14 di febbraio evento fisico nelle torri quindi in torre da noi a Milano Luca Stellato Nicola Para Pierpaolo Scandura ce li abbiamo tutti anzi cerchiamo di aggiungerne sempre in più in modo da dare una view completa una formazione completa alla clientela puntiamo molto su questo Valentina siamo stati e lo dico con grande orgoglio perché è la coronazione di un anno siamo stati nominati all'Italian Certificate Awards come emittente dell'anno è un bellissimo lavoro di squadra complicato per alcuni versi abbastanza faticoso ma che però ovviamente permette di avere tanti riconoscimenti quello il premio è sicuramente diciamo l'ultimo la coronazione però la partecipazione attiva della clientela ai nostri webinar di formazione o in generale il puntamento di formazione sicuramente il primo premio che abbiamo vinto e che continuiamo a vincere quindi puntiamo molto su questa attività di formazione speriamo ovviamente che i numeri crescano sempre di più e speriamo ovviamente che la situazione diventi più rosia possibile sui mercati e non solo e non solo certamente hai fatto accenno a questo grande lavoro di gruppo di squadra e mi piace anche sottolineare poi l'intervento appunto di analisti di trader differenti che hanno anche delle anime diverse che portano le loro competenze conoscenze strategie e quindi una view ampia varia per tutti i gusti la possiamo definire così assolutamente sì assolutamente bene bene allora io ringrazio naturalmente ecco per l'intervento in questa puntata nicola para per averci aiutato a comprendere gli scenari di mercato e averci presentato due prodotti interessanti grazie naturalmente per essere stato con noi grazie grazie a te valentina un saluto anche a riccardo e agli amici che ci seguono grazie grazie al prossimo naturalmente appuntamento con i certificates grazie qui in studio a riccardo falcolini ci vediamo prestissimo per tutti gli aggiornamenti che riguardano appunto i mercati in particolar modo questa branca che sta diventando sempre più rilevante dedicata ai certificati di investimento grazie per essere stato con noi grazie valentina ovviamente un grande grazie anche a nicola a tutti coloro che ci hanno seguito bene